Prosegue la campagna acquisti per la pallavolo Cirignola in vista della stagione sportiva 2021-2022, fra riconferme, poche e molte new entry. Ultimo acquisto in ordine di tempo è Doroti Rinaldi. Prima di abbonare in terra ufantina, nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Capodorso, Villa Zuccaro e Torre Annunziata. Nelle prime dichiarazioni rilasciate, Doroti ha detto «Sono felice di poter iniziare questa stagione così da poter realizzare il desiderio di mia madre, che era da sempre quello di ritrovarmi come attaccante con il partitico numero 10, quello del mio idolo Maradona. Mi aspetto un anno grandioso e che punti a grandi risultati. Sono fiduciosa e carico di entusiasmo, convinta che faremo grandi cose. Parole che confermano la volontà del team Fucsia non solo in una stagione migliore rispetto a quella precedente, ma di ritrovare il suo pubblico mancante da troppo tempo sugli spati delle balla sport di Leo». Mimmo Siena, World News 24 Sport.